Ben ritrovati di nuovo su ReviewU, un altro prodotto utile secondo me per chi sta per andare in vacanza quindi non solo, anche per chi ovviamente viaggia in macchina e vuole qualcosa di contenuto acquistato su Amazon, un prezzo davvero contenuto e un ricaricatore con due entrate USB per caricare i vostri dispositivi, tablet, iPhone, tutti i modelli diciamo che hanno la possibilità appunto di attaccare un cavetto appunto che ha un'uscita USB e che poi ha un'uscita corrispondente che va allo smartphone adeguata, io a questo proposito ho preso questo cavettino da 30 cm quindi vado ad attaccare qua dentro l'uscita USB e poi posso scegliere tranquillamente con un solo cavettino di caricare il dispositivo che voglio senza avere mille cavi o senza dover appunto avere le parti in alto da attaccare ce l'avevo anche, avevo anche un prodotto simile dove c'era un unico cavo e andavo a staccare e attaccare i diversi, le diverse componenti qui in alto a dipendenza del tipo di ingresso del dispositivo ma vi assicuro che era scomodissimo perché spesso e volentieri non, come posso dire, non faceva bene il contatto e non si caricava quindi con questo sono sicuro di non aver più problemi allora è un, andiamo a vederlo, come viene detto carica rapidamente vi lascio tutti i link su Amazon anche della video recensione di questo prodotto e come vedete è veramente un prodottino semplice, piccolo di dimensioni contenute queste sono le caratteristiche che potete vedere allora abbiamo un input di 12 barra 24 volt e l'output viene riportato qui 5 volt barra 3.1 ampere qua è riportato appunto i dati e qui in alto la ricarica rapida qui c'è 3.0 così viene riportato, poi sarà da verificare comunque al momento e si va ad attaccare ovviamente ed è fatto appunto qua anche sembra abbastanza solida la parte che va all'accendisigari e sembra anche ben fatto come prodotto ovviamente la ricarica rapida dipende anche dal vostro dispositivo il prodotto secondo me è utile e che vi raccomando se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela alla prossima review